La Corte d'Appello di Torino ieri ha confermato la condanna di primo grado a un anno nei confronti di Aldo Albertario, 58 anni, difeso dall'avvocato Marco Vigiani, che si autodefiniva cacciatore di anime. L'accusa nei suoi confronti era di viripendio di tombe per i riti che diceva di voler compiere per purificare le anime dei defunti. Per compiere tali pratiche disponeva sassolini sui sepolcri, spostava vasi e lumini, spesso girando per il Camposanto in orario notturno. I fatti in questione risalgono al periodo tra il 2012 e il 2013. Molti avevano sporto denuncia alla polizia, gli uomini del commissariato di Omegna lo avevano colto in flagrante nel cimitero di Cireggio, denunciato nel maggio del 2013. Non era la prima volta e non sarebbe stata l'ultima non solo a Omegna, ma anche a Domodossola e in altre località della provincia. La Corte d'Appello ha confermato la condanna del Tribunale di Verbagna e risarcimenti ai familiari dei defunti, le cui tombe erano state prese di mira. Siamo soddisfatti, commenta l'avvocato di parte civile Cristian Ferretti. Ringraziamo la polizia di Omegna che aveva svolto le indagini.